Uno strumento legislativo per fermare l'aumento continuo delle tariffe autostradari della 24 e della 25 esiste ed è una norma che nel 2012 Giovanni Legnini, all'epoca relatori della legge di stabilità, fece inserire nel documento finanziario. Documento che identifica appunto l'autostrada 24 e 25 come infrastruttura strategica nazionale per le finalità di protezione civile. Erano passati tre anni dal terremoto dell'Aquila che aveva messo a dura prova anche la tenuta infrastrutturale dell'autostrada chiusa per alcuni giorni perché subì degli spostamenti a causa delle violenti scosse. Arriba a dirlo oggi, in una conferenza stampa di tutti i capigruppo della coalizione di centro-sinistra è il consigliere Legnini che ha ricordato come quella norma sia importante soprattutto perché prevede che si debba garantire la messa in sicurezza dell'autostrada. Mentre i giorni corrono e la scadenza della proroga dell'aumento dei pedaggi si avvicina i capigruppo della coalizione di centro-sinistra chiedono la convocazione di un consiglio regionale straordinario come è stato già fatto per la questione Gran Sasso e attaccano il governo regionale evanescente e inconcludente, dicono e i parlamentari abruzzesi di maggioranza disinteressati a tutte le questioni che riguardano l'Abruzzo e i crateri sismici. Siamo in gravissimo ritardo sull'attuazione di quella norma del 2012 che io voglio fortemente, qualificando la nostra autostrada come un'infrastruttura strategica nazionale di protezione civile disponendo l'approvazione di un nuovo piano economico finanziario per mettere in sicurezza e per rendere sostenibili le tariffe. Noi oggi rischiamo il salasso e non possiamo accettare il salasso sui pedaggi autostradali e non ancora affrontiamo il tema della sicurezza nella sua globalità che richiede un investimento di 3 miliardi di euro poiché per responsabilità del governo nazionale siamo arrivati agli ultimi giorni la proroga sarà indispensabile, benvenga, la facciano, la facciano subito ma il problema è risolvere in radice questa vicenda che si trascina da troppo tempo c'è un piano presentato dalla concessionaria un anno fa si stabilisca quali sono gli investimenti da fare da dove si attingono le risorse credo che purtroppo saranno necessarie risorse pubbliche